Musica Bello a tutti ragazzi qui è Giocatore Interessante Ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo qui tornati con l'ultimo episodio Con l'apertura delle bustine della Champions Questa volta non sono da solo ma ancora una volta sono con un Ciao a tutti ragazzi E bentornati esatto qui in questo episodio di spacchettamento selvaggio Chiamiamolo così Delle figure della Champions Oggi puntiamo a sbancare come l'ultima volta D'altronde perché Cavolo l'ultima volta è stata veramente devastante L'ultima volta abbiamo trovato di tutto Questa volta sarà l'ultima Quindi l'ultimo video Perché io sono arrivato praticamente alle 30 figurine mancanti Quindi una volta aperte queste bustine Avrò finito e porterò appunto il video con l'album completo E trovate un altro video con altre 20 bustine aperte sul canale di Omo Quindi ve lo lascio in descrizione Andateci Possiamo partire? Vai tu Sei l'ospite inizio tu A te la mano Parto io Parto io Vai Allora iniziamo subito a sbustarla prima PSG Krikoviak E Tiagone Motta Pazzescamente incredibile Carta brillante Kit del Napoli Che ce l'ho già Doppione Mertes Hacker E Monreal Dell'Arsenal Poi abbiamo Rafael e Lopez Del Lione E chiudiamo con Fernandez E Akin Fev Del CSK Mosca Vado io velocemente Visto che eravamo ben 20 Da aprire Abbiamo Kistling Del Barrier Leverkusen Ed Hernandez Poi abbiamo La figurina speciale Di Vardy Molto bella Poi abbiamo Due giocatori del Benfica Julio Cesar Ed Almeida Del Tottenham Abbiamo Ali E Wanyama E infine Del CSK Mosca Abbiamo Alan E Wernblom Non ho partito male Anche io Ok Allora Marco Verratti E Ben Arfa Del PSG Vediamo la carta brillante Un altro kit Kit del Monaco Stavolta Che mi mancava Giulio Cesar E Almeida Che li hai appena trovati Te Del Benfica Uguale Esatto Evandro E Andrè Andrè Del Porto E sempre del CSK Mosca Zagoe E Wernblom Fortunatamente Ne abbiamo 10 a testa Quindi c'è tempo Per recuperare Dai dai Allora Passi con Agustina Due giocatori Del Ludo Goretz Se non sbaglio Sardar Ed Alexandro Poi Divisa E stemma Del Del Benfica Del Benfica Indovina chi Julio Cesar Ed Almeida Del Porto Evandro Ed Andrè E infine Del Manchester City Ottamendi E Stones Andiamo avanti Allora Abbiamo Stojanovic E Semper Della Dinamo Poi abbiamo Kit Del Bayern Monaco Del Napoli Raul Albiol E Fausi Goulam Poi abbiamo Del Leicester City Hernandes E Hood E chiudiamo Con Griffith E Dembélé Del Celtic Vado io I miei obiettivi Sono La figurina speciale Di Chiellini E la figurina speciale Di Messi Spero di trovarli Chiedi poco Insomma Poi comunque Abbiamo Lucas E Pastore Del PSV La figurina speciale Di Godin Dell Dell'Atletico Madrid Abbiamo la risultanza Di Griezmann Alla finale Praticamente Di Champions Del Lione Abbiamo Darger E Nkolu E alla fine Del Leicester Abbiamo Vardy Ed Okazaki Pensa a te Beh dai Questo è un po' meglio Degli altri Dai Ci stiamo riprendendo Piano 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 Esatto Però ti riprendi solo tu Perché io parto Con Gabi e Savic Dell'Atletico Madrid Carta brillante Kit Del Basilea Mamma mia Che tristezza Veramente Poi abbiamo Del Mayer Leverkusen Campbell e Bender Con i suoi capelli Molto sobri Bellissimo Poi abbiamo Vida E Shovkovski E chiudiamo Con due giocatori Della Juventus Che sono Patrice Evra E Dani Alves Almeno qui dai Chiudiamo bene Eh si Vado io Della Juve Abbiamo Gonzalo Iguain Triplo E Vanzukic Bene Stemma e divisa Del Napoli Ok Dell'Arsenal Abbiamo Ramsey E Xhaka Del PSV Moreno E Nikolas E infine Del CSKA Mosca Abbiamo Milanov Ed Eremenko Diaby E Vossen Del Bruges Poi abbiamo Un altro kit Mamma mia Basta kit Per favore Del Borussia Mönchengladbach Poi abbiamo Dello Sporting Lisbono Samaris E Yardel Noboa E Kudriashov Boh So anche Lega Giochino E chiudiamo Con Elkul Aghero E Nolito Benissimo Benissimo Ottima chiusura Vado io con la prossima bustina E fatto anche io bene Questa volta Perché abbiamo Falcao E Mutigno Del Monaco Poi Figurina speciale Di Amsic Va bene Doppione anche questa Però ci sta Del Siviglia Abbiamo Rami E Tremolinas Del Porto Abbiamo Corona Ed Otavio E del Real Madrid Marcello E Carvacalle Il Real mi sembra di averlo finito Non mi ricordo Boh Comunque vabbè Oh comunque stiamo partendo male Ma chiudiamo bene Esatto Ultima di due e tre pacchetti Abbiamo chiuso sempre bene Allora Del PSG Kurzawa E Maxwell Poi Altro kit Porca miseria Almeno stavolta È del Barcellona Si salva per quello Solo per quello Poi andiamo avanti Abbiamo L'Angel E Kopchinski Mamma mia Che cognomi Leggi nomi Per prima Esatto E Michael Chiamiamolo Michael Per gli amici Michael Esatto Esatto Del Napoli Isai E Reina Poi abbiamo Janko E Seidu Dumbia Del Basilea Vado io allora Attenzione perché Parto bene anche questa volta Perché del PSV Abbiamo trovato Anzi del PSG Abbiamo trovato Edison Cavani E Di Maria Doppio però Due ex Napoli comunque Tra il Pipita E Gonzalo E Edison Cavani Del Monaco Stemma E Divisa Del Benfica Troviamo Orta Ed Eliseu Del Tottenham La Mela Ed Eriksen E infine Del Ludo Goretz Forse Plastum E Moti Allora forse L'altra squadra Non era Il Ludo Goretz Allora Partiamo con Il Napoli E troviamo Manolo Mi sono perso una figurina Dentro il pacchetto Io ho già spoilerato David Silva E Kevin De Bruyne Che devono essere Gli ultimi due Ma li dobbiamo fare subito Poi abbiamo Manolo Gabbiadini E Milik Un altro kit PSV in Doven Poi abbiamo Prijovic E Nikolin E chiudiamo Con Erokin E Kalacev Che non so La squadra Anche questa Fateci sapere un commento Che squadra È Perfetto Beh va bene Vado io Del Napoli Indovina chi Spara Spara un nome Spara due nomi Due nomi Aspetta Gabbiadini E Milik Anche tu Esatto Mamma mia Assurdi Figurina speciale Di Obama Young Comunque Abbiamo Igor E Michael Del Lione Abbiamo La Gazette E Cornette Della Dinamo Chieva Abbiamo Jan Molenko E Gonzales Partiamo subito Nuovo pack Con Paolo Di Bala Della Juventus E Marco Piazza Piazza Olè Aspetta Partito un kit Altro kit Madonna Club Bruges Poi abbiamo Kiyotake E Iborra Del Siviglia Abbiamo Pereira E Casillas Del Porto Pereira Che Si era Su protagonista Nella partita Di ritorno Contra Juventus Di Champions League E poi abbiamo CR7 E Garrett Bale In fondo Fantastico Mi mancava Vado io con la terz'ultima Bustina di questo pacchetto Del Monaco Ho trovato Silva E Bakayoko Poi Divisa E stemma Del Tottenham Dell'Arsenal Bayerim E Peter Cech Del Porto Laurent Ed Andre Silva Del CSKA Mosca Bereisuski Ed Ignacevic Niente da fare Niente da fare Meglio il mio CR7 E per il Nifondo Decisamente Decisamente Mattuidi E Marchinhos Del PSG Un altro kit Assurdo Neanche un giocatore Veramente brillante Comunque kit Dell'Atletico Madrid Poi abbiamo Vieto Ebenied Del Sivilla Abbiamo Val Buena E Tolisso Del Lione E chiudiamo Con Naccio E Bertuzzi Del CSKA Mosca Della Juventus Indovina chi I due Di Bala E Piatta Si Si Poi Abbiamo La parte in basso a sinistra Della alzata Della Champions Della Coppa Del Real Madrid Del Sivilla Abbiamo Ferreira E Rico Del Tottenham Abbiamo Son E Chadli E del Real Madrid Abbiamo Tony Cross E Luca Modric Ultimo pacchetto Direi che bisogna Chiudere in bellezza E partiamo con Driss Mertens E Lorenzo Il Magnifico Insigne Del Napoli Poi abbiamo Ovviamente Non possiamo farci mancare Un altro kit 10 su 10 In questo episodio Kit del Benfica Poi abbiamo Sempre Del Benfica No questo si Sempre del Benfica Cervi E Pizzi Del Porto Marcano E Felipe E del Barcellona Signori e signori Luis Suarez E Neymar L'ultimo pacchetto Mi è piaciuto Eh si Hai chiuso in bellezza Ronaldo Neymar Suarez Vado io Con l'ultima bustina Abbiamo due giocatori Del Monaco Valeré E Guido Carriglio Del Celtic Abbiamo Divisa E Stemma Del Benfica Abbiamo Lindelof E Lisandro Lopez Del PSV Abbiamo Guardado E Daniel E infine Chiudo con Il Manchester City E chiudo con David Silva E Kevin De Bruyne Beh Dai che li avevo trovati io Prima oltretutto Ah Siamo scambiati un po' di Di figurine Un po' di figurine Per me va benissimo così Perché comunque Alle 30 figurine Ci sono arrivato Quindi potevo anche trovare Tutti quanti doppioni Non avrebbe cambiato Non sarebbe cambiato nulla Mi dispiace di non aver trovato Lionel Messi Brillante Diciamo Spero di trovarlo nel tuo video Quindi Andatelo a vedere Una volta finito questo Io lascio salutare Home Mi raccomando ragazzi 3000 mi piace Per questo finale di serie Noi ci vediamo con un prossimo video Bella Mi raccomando ragazzi 3000 mi piace Perché queste sono serie Veramente che Alternative Che mi piacciono tanto Chiudiamo con Ronaldo, Bale Suarez e Neymar Che vi salutano Ci vediamo di là Speriamo di trovare Qualcosa di meglio Magari qualche giocatore brillante Visto che ho trovato Tutti dei kit Esatto E niente A dopo Ciao 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 Ciao